Tenetevi forte, mi raccomando, Pony! Vediamo a che velocità può andare. Ma che cosa... Viva! Ehi, Tim! Tu sei in grado di vedere? Io vedo un muro bianco? C'è troppa neve! Entrare nel panico non ci aiuta! Restiamo calmi. Ma come facciamo? Guarda quel ghiaccio! C'è come tranquillizzarci! Dobbiamo pensare a cose serene e concentrarci il più possibile su che cosa vogliamo che succeda! Non so, un atterraggio dolce e sicuro a Zephyrides! E funzionerà! È un vecchio trucco degli unicorni! Ci possiamo provare, giusto? Insomma, giusto! Forse sto solo improvvisando! Non resta altro, quindi? Sì! Avanti, Pony! Visualizzate i cancelli reali di Zephyrides! Grazie, dolce casa! Ci saranno degli addobbi sfavillanti! Concentrati! Tenetemi forte! Avanti, avanti, continua così! Zephyrides! Ehi, ce l'abbiamo fatta! Sono a posta? Sì! Grazie, Izzy! Non posso crederci, ha funzionato! Sì, anch'io, ma non c'è tempo per festeggiare! Giusto! Dobbiamo vedere le vetrine con la mamma, una cosetta veloce! Finiremo in tempo! E poi dobbiamo prepararci per il grande concerto poliedrico reale per la festa dei desideri di Zephyrides! Wow, ci vuole sempre un secolo a dirlo! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no!